Si corre per bloccare la variante Delta, l'unico modo è vaccinare. Solo così si potrà pensare di tornare alla normalità. È per questo che non si arresta la campagna vaccinale, anzi i centri dell'ASL Salerno non andranno in vacanza. A ribadirlo è stato il direttore Arcangelo Sagesetozzi che ha invitato i cittadini della provincia salernitana a vaccinarsi anche senza essere iscritti e chiarisce che il Green Pass può essere rilasciato anche per chi non è ancora vaccinato ma con tampone nelle ultime 48 ore. Purtroppo il virus non si ferma e noi non possiamo fermarci. Certamente l'estate non ferma la campagna vaccinale e certamente questa moltiplicazione di variante Delta che stiamo vedendo e che diventerà prevalente ci deve costringere, forzare, invitare tutti a fare non solo la prima dose, a fare anche la seconda dose e a vaccinarci tutti quanti. Il vaccino è lo strumento che ci può permettere di ritornare alla vita normale. Noi abbiamo come obiettivo per fine settembre raggiungere almeno il 75% della popolazione ma faremo tutti gli sforzi perché questo limite venga superato, perché più persone sono vaccinate, non basta il 75%, è un limite di sicurezza ma non basta, ma più persone sono vaccinate, più potremmo riprendere la vita normale, più riusciremo a delimitare, a evitare, a bloccare la circolazione del virus e a bloccare anche le varianti. I vaccini diciamo che ci sono a sufficienza per poter fare queste cose, non abbiamo una marea di vaccini, però i vaccini a sufficienza per poter tenere questo ritmo, 50.000 dosi a settimana, 380.000 diviso 50.000 a settimana, vi rendete conto che per fine settembre questo ritmo è possibile tenerlo e potremmo raggiungerlo. I vaccini anche se non siete iscritti vi iscriviamo direttamente, benvenga che si iscrivano le persone. Oggi il fenomeno ancora, io ho fatto un attimo fa il rilievo degli iscritti in piattaforma delle adesioni, ancora non è partito, spero che nei prossimi giorni parta questa campagna di nuova adesione alla vaccinazione. Altra cosa importantissima è che anche si dilata il tempo della prima dose, la prima dose prima del caso in cui una persona è stata malata e poi fa una dose di vaccino. aveva un parametro che era fissato a 6 mesi, adesso è stato spostato a 12 mesi, per cui riusciamo a dilatare ulteriormente queste tempistiche e ad avere il Green Pass più facilmente. Altro messaggio importante che voglio che si sappia in giro, è importantissimo vaccinare, è importantissimo perché così riusciamo ad avere anche il Green Pass, che è uno strumento fondamentale per evitare di chiudere ed evitare la circolazione, ma il Green Pass si può avere anche per chi non è vaccinato. Certo, ha una durata limitata, vale per 48 ore dell'effetto del tampone, però chi ha l'esigenza di avere una circolarità facile, non può, non ha avuto, per condizioni, al di là delle scelte, per condizioni le più diverse, non è stato in grado di essere vaccinato, di vaccinarsi, fa il tampone e può avere per 48 ore tranquillamente il Green Pass. Intanto anche in alcuni comuni dell'agro superata la soglia del 60%, ad oggi a Roccapiemonte è raggiunto il 61% con 9.562 vaccini inoculati, 23.307 pari al 54% invece hanno c'era superiore, anche se per tutta la settimana in molti comuni dell'agro sono previste soltanto dosi di richiamo. Grazie a tutti.